Manuela Ratta, Presidente dell'Associazione Festival della Scienza, che quest'anno compie dieci anni. Sì, abbiamo scelto le stesse date del 2003, 23 ottobre, 3 novembre. Nel 2003 doveva essere un antipasto per il 2004, è stato un pranzo di nozze. Quest'anno abbiamo invitato i ragazzi che sono nati il 23 ottobre con noi, così festeggeremo questo decimo compleanno, all'insegna della bellezza. Abbiamo voluto dare un segnale preciso con questa parola. Intanto in un momento di crisi del paese, di tristezza, volevamo dare un segnale positivo. E poi quando si pensa all'Italia si pensa alla bellezza, ma si coniuga sempre con la bellezza architettonica, la bellezza della moda, la bellezza dell'arte. C'è una bellezza specifica della scienza, dite voi? Beh, non dobbiamo dimenticare che uno dei nostri più grandi artisti, Leonardo da Vinci, è stato un grandissimo scienziato che ha lasciato molto. La bellezza della scienza è quella di avere anche risolto tanti problemi della vita delle persone e di aver migliorato molto la qualità della nostra vita. Questo è un festival per i giovani o un festival dei giovani più che altro? È nato come un festival con una particolare attenzione ai giovani, alle famiglie e adesso è diventato loro proprietà. Io e Vittorio Bossi siamo un po' dei testimoni, dei coordinatori, dei tutori, però la progettualità che i ragazzi stanno esprimendo è veramente straordinaria. Abbiamo fatto un bellissimo progetto con la regione Liguria che si chiama Orienta Scienza, in cui 130 ragazzi fanno un progetto di alternanza scuola-lavoro e quindi tra gli organizzatori e i gestori del festival di quest'anno abbiamo tantissimi ragazzi delle scuole superiori.